Posa della prima pietra nel cantiere della nuova palestra interrata delle scuole in lingua tedesca, liceo classico Walter von der Vogelweide e medie Aldalberd Stifter di Bolzano. Il complesso comprenderà una palestra per lo sport con una superficie di 1248 metri quadri, spogliatoi per scolari e insegnanti. La superficie netta della palestra, come ha fatto presente l'assessore provinciale ai lavori pubblici Cristian Tommasini, in occasione della posa, è di complessivi 3.272 metri quadri. Il volume totale del complesso è di 25.299 metri cubi, per la maggior parte interrati. Sarà costruita anche un'autorimessa sotterranea per 24 posti macchina, una struttura che si è resa necessaria principalmente per un motivo. È veramente impressionante questa opera, siamo qua ai piedi del scavo, sono 10 metri di scavo sotto terra, si è resa necessaria per il fatto che il continuamento degli alunni ha portato poi a questa esigenza e la Giunta giustamente ha deciso poi di fare in collaborazione col Comune questa opera che è una triplice palestra. I costi di costruzione ammontano 8 milioni di euro per una spesa totale di 12,6 milioni di euro, comprese le somme a disposizione. La nuova struttura sarà edificata in parte sul terreno del Comune ed in parte sul terreno della provincia. Per questo motivo il finanziamento è a carico di entrambe le amministrazioni pubbliche, secondo un'apposita convenzione. Come evidenziato nel corso della cerimonia, l'auspicio è che già dal prossimo anno scolastico, 2016-2017, gli studenti del liceo classico Vogelweide e delle Medisch-Tifter possano iniziare ad utilizzare la nuova palestra interrata.